Quello che state vedendo è il pallone ufficiale della Serie D, ringraziamo il collega Matteo Marzotti che si è prestato a fare questa operazione sicuramente molto difficoltosa, sta proseguendo la preparazione settimanale del Rizzo Allenamento agli ordini di Mister Mariotti, c'è un'atmosfera decisamente serena come questa giornata, la vittoria di domenica scorsa contro lo Sporting Trestia ha rinfrancato, rinsaldato nell'animo una squadra che è forte di sua, che necessitava solo del riscontro sul campo e non c'è dubbio che domenica scorsa l'Arezzo ha dato delle interessanti e utili indicazioni anche in vista della partita di domenica prossima sul campo dell'Ardea, un campo che gli Amaranto conoscono bene, visto che appena un mese fa vi hanno disputato una partita amichevole contro la formazione del team Florida, da formazione di Serie D che però è stata collocata in un altro girone, a questo punto c'è solo Marras che si sta allenando a parte, è presumibile che contro la formazione capitolina possa essere stiarata o lo stiaramento iniziale che Mariotti ha scelto contro lo Sporting Trestina, quindi non resta che aspettare il riscontro del campo, per domenica è prevista anche un esodo da parte di almeno 200 sostenitori dell'Arezzo nello stadio dell'Ardea, è rinato l'entusiasmo e soprattutto è rinata la convinzione che questa squadra può andare lontano. Ultima annotazione, domenica prossima come abbiamo già evidenziato ieri l'Arezzo giocherà con il lutto al braccio per ricordare Giorgio Perugia, uno dei giocatori mitici che hanno contribuito alla storia dell'Arezzo Calcio.